oltre a quanto si abita lì in piazza le domande in un po' qua è un piatto simile a piazza si ha prefiato il porto vicino a venusciò e sono inizio a mano vicino a me ma lì, per me è lì dove è? e lui cuoccia la cosa degli anni fa non c'è bene grazie